E' stato costruito completamente, davvero, tutto legno e magno, tutto fibra ed è stato realizzato praticamente partendo da un disegno di una 4, ha preso un piccolo disegnino da 4, ha riportato un disegno di una versione militare con gli serbatoi supplementari all'Ari si presenterà un bellissimo programma, anche oggi, Marco Martina ha sbagliato il titolo di minor pilota durante una manifestazione aerea, il best of show della giornata e tra poco capirete l'emotivo, Marco Russaro con il suo MB339. Grazie a tutti! 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 Grazie per la visione! Grazie per la visione!